Scegli il meglio, scegli Fastweb, la rete più veloce d'Italia. Raggiungici in negozio per scoprire tutte le nuove offerte. Tu sei futuro! Il torneo Open maschile di tennis da Marilla volgerà al termine domani sera, con la finalissima prevista nel campo principale del Social Tennis Club di Cava dei Tirreni, che avrà inizio alle ore 19. Entreranno dunque in scena i migliori tennisti per la categoria che rappresentano, la seconda, in un torneo che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale, qualificato come uno dei più importanti nel centro-sud, anche per lo sforzo di chi lo ha organizzato e di chi lo ha sponsorizzato. Ieri si sono qualificati alle semifinali Pasquale De Giorgio, a spese di Alessandro Ingarao, Riccardo Mascarini contro Alessandro Bellifemine, Stefano Baldoni ha avuto la meglio su Giovanni Cozzolino, proprio l'unico del Social Tennis ad essere arrivato fino ai quarti, e infine Giuseppe Caparco ha sconfitto Riccardo Di Nocera. Dopo le semifinali di oggi, alle 16 Mascarini contro De Giorgio e alle 18 Caparco contro Baldoni, e dopo la cena spettacolo prevista proprio stasera, l'atto conclusivo programmato appunto per domani. Luca Ricciardelli, presidente del Social Tennis, ai nostri microfoni. Invito tutti i cittadini perché è un evento che secondo me da tanti anni non c'era, alle ore 19 domenica ci sarà la finale, e quindi sicuramente sarà uno spettacolo, e riportare il grande tennis a camera era uno dei nostri obiettivi e ci stiamo riuscendo. Chi è stato presente ieri ha comunque potuto assistere a un incontro acceso tra Alessandro Bellifemine e Riccardo Mascarini, con quest'ultimo che ha avuto bisogno del tie-break per poter rompere il risultato di parità. Nessuno dei due voleva mollare, e l'intero incontro è durato ben 4 ore e 15 minuti, risultando, secondo molti, l'incontro più lungo che si sia mai disputato al Social Tennis. Grande incertezza. I due tennisti esausti a fine gara. Ti aspettavi un confronto così acceso, così tosto con Bellifemine? Sì, sì, certo, certo, certamente, anche perché lui gioca molto bene, soprattutto anche si dà la fan anche a livello internazionale, un ragazzo che gioia molto, ho visto a livello Futures, quindi ha molte partite buone sulle spalle, e d'altronde poi si vede, ha un ottimo livello, molto pesante, da fondo, di diritto, serve bene, e quindi mi sono dovuto, diciamo, impegnare molto per portarla a casa questa partita qua. Bel torneo, il Damarilla, eh? Eh? Bel torneo, quello a cui stai partecipando. Sì, sì, uno dei tornei migliori d'Italia, secondo me. Alessandro, Bellifemine, questo incontro te lo ricorderai perché è stato uno dei più lunghi, tra i più accesi che si siano mai disputati, proprio qui al Social Tennis Club. Sei uscito ai quarti contro un ottimo avversario. Come hai trovato l'organizzazione di questo torneo Damarilla? Questo torneo mi sono trovato benissimo. Luca, l'organizzatore, è stato gentilissimo, da prima di arrivare perché mi ha subito mandato dei messaggi per capire quando sarei arrivato e tutto quanto. e niente, poi il circolo è molto molto bello, i campi sono buoni e niente questo. Poi la partita è andata così, però il tennis purtroppo è così, si vince e si perde. Si è concluso inoltre ieri anche il torneo di quarta categoria. Ha vinto Marco Argentino del tennis Oplonti a spese di Alessandro Capriglione del Social Tennis Club di Cava. Le premiazioni sono state effettuate ieri per ragioni organizzative.